Quanto fu sofferta la vittoria azzurra nella finale dei mondiali del 34? Fu soffertissima perché la cecoslovacchia con il suo palleggio irretigli azzurri che non riuscirono mai ad entrare in partita. I cechi colpirono due pali e segnarono a 20 minuti dalla fine con Puc. Sembrava finita perché i cechi continuarono ad attaccare a folate e colpirono il terzo palo al settantottesimo, sarebbe stato il 2-0. Pozzo decise di giocarsi il tutto per tutto, invertendo le posizioni di Schiavio e Guaita e quest'ultimo due minuti dopo mise in aria un perfetto pallone per Orsi che controllò spalle alla porta prima di girarsi e fulminare Planitschka, 1-1 nel tripudio generale. Gli azzurri sembravano trasformati e sfiorarono più volte il gol del 2-1, che arrivò però solo al quinto minuto del primo tempo supplementare. Guaita prese palla, si allargò sulla destra, entrò in aria, vinse un tecle e servì Schiavio, tiro di prima intenzione e rete! L'Italia è campione del mondo! ELA